Sono una ventina le donne di Pavia che hanno presentato al Tribunale l'istanza per l'interdizione dei loro mariti, secondo loro ormai incapaci di intendere e di volere perché vittime senza speranza del gioco d'azzardo. Un gesto estremo dettato dalla disperazione e dalla sofferenza di chi, soprattutto in questi tempi di grave crisi economica, vede persone amate rovinarsi e portare alla rovina le famiglie per l'incapacità di resistere all'attrattiva delle slot machine. Abbiamo una media di circa una macchinetta ogni 136 persone. Questo significa che a livello economico vengono spesi pro capite mediamente 2.800-2.900 euro annui che equivalgono al 7,8% del PIL locale annuo. I dati certificano la diffusione di un fenomeno in crescita che ha indotto la società civile alla mobilitazione. Oggi sono una ventina gli esercizi commerciali della città che aderiscono alla campagna No Slot, locali cioè che rinunciano alle macchinette per il gioco d'azzardo. Anche dei clienti che avevamo, che abbiamo saputo che giocano, infatti non vengono più qua perché non trovano il gioco e comunque sono spenti, non hanno neanche più un dialogo perché oramai sono tra virgolette malati. Una campagna, quella contro il gioco d'azzardo, che vede in prima fila la chiesa locale e che acquista un significato particolare in questo tempo di crisi, che porta sempre più persone a inseguire attraverso il gioco l'illusione di facili guadagni. Certamente riempie la vita e sembra che mi apra qualche prospettiva di futuro perché appunto la piccola vincita mi sembra che possa aiutarmi in chissà qual maniera. Tutte e due sono degli imbrogli.